Io capisco che Salvini dia fastidio a tanti, però credo che tutti dovrebbero capire, tutti dovrebbero dire, finisco solo su questo, che effettivamente finalmente in Italia c'è un ministro dell'interno serio, perché alla, non so come faccia, me lo chiedo io che lo conosco da 25 anni, a essere il migliore ministro dell'interno che l'Italia ha avuto negli ultimi anni e questo penso sia indubbiamente vero. No, questo francamente, riesce, riesce, e beh insomma, diciamo che i cittadini, diciamo che i cittadini, concludano i cittadini, poi io non rimpiango i ministri chiusi dentro agli uffici, perché se penso al Fano, diciamo che lui era sempre chiuso nel suo ufficio, ma danni per l'Italia, ne ha fatti troppi, tanti, chiuso nel suo ufficio.